Sono molto contento di essere qua, in una società così importante come questa. Darò tutto in campo per ritornare alla fiducia che hanno dato in me. Molto contento anche per giocare con i grandi, è quello che volevo. Andrò giorno a giorno, dare tutto in ogni allenamento, in ogni partita e dare il massimo di me. Sono terzino, mi piace spingere molto, giocare per tutta la fascia sinistra. Sono offensivo, ma anche quando dobbiamo difendere, mi piace difendere. Ho conosciuto il mister, i compagni, tutti molti bravi. Adesso lavorare e raggiungere gli obiettivi. La Serie B è molto difficile sempre, più questo anno che ci sono tante squadre importanti. Dobbiamo andare partita a partita e provare a vincere tutte, ma sempre partita a partita. Sono molto contento di essere in questa città, in questa società. Un saluto grande ai tifosi e forza Cagliari.